La salma di Matteo Messina Denaro è stata tumulata nella cappella di famiglia nel cimitero comunale di Castelvetrano. È arrivata nella città natale del BOS intorno alle 8 del mattino, scortata dal reparto speciale dei GOM. Non è stata eseguita alcuna funzione di tipo religioso. L'auto che trasportava il ferretro ha raggiunto direttamente il cimitero di Castelvetrano. Ad accompagnarla l'avvocato Lorenza Guttadauro, la figlia del BOS Lorenza Messina Denaro e Vincenzo Panicola, cognato del BOS. Ad accompagnare il ferretro anche il fratello Salvatore con in mano un mazzo di fiori destinati al BOS e l'altra mano poggiata sul carro funebre. Altre due auto sono entrate dentro il cimitero, seguendo la vettura che trasportava le spoglie mortali del BOS mafioso prima della chiusura dei cancelli. Terminata la tumulazione nella cappella di famiglia del cimitero di Castelvetrano, i familiari sono usciti in corteo, alcuni a piedi, altri in auto. Qualcuno si è coperto il volto con un sacchetto mentre si trovava nel lato passeggero nel tentativo di non farsi riprendere dalle telecamere. La cappella della famiglia Messina Denaro è una fortezza impenetrabile, piena di vetri spessi e grati in acciaio. È praticamente impossibile vedere cosa c'è al suo interno e in quale l'oculo è stato sepolto l'ex BOS di Castelvetrano.